Il metodo delle proiezioni o rotazioni successive è una delle tre tecniche utilizzate nel disegno tecnico per disegnare in proiezioni ortogonali un solido aspigolo che poggia con la base su un piano generico o più semplicemente un solido aspigolo tale da risultare inclinato con l'asse o con le sue facce a tutti e tre i piani di proiezione. Le altre due tecniche sono il metodo del piano ausiliario e il metodo del ribaltamento del piano generico. Abbiamo già avuto modo di vedere in che cosa consiste il metodo del piano ausiliario nel precedente video di questo canale youtube. Attraverso il metodo delle proiezioni o rotazioni successive è possibile assegnare al solido inclinazioni precise e non qualsiasi rispetto ai piani di proiezione. Il metodo prende il nome dal fatto che queste inclinazioni sono ottenute facendo ruotare in due fasi il solido rispetto ai piani di proiezione. Solitamente solo le inclinazioni rispetto al PO e al PV sono assegnate dal testo dell'esercizio e la terza proiezione spesso non viene neanche richiesta o disegnata. Infatti inclinare un solido rispetto ai piani PO e PV lo rende automaticamente inclinato anche rispetto al piano PL. Ma procediamo con ordine e vediamo in che cosa consiste il metodo. Supponiamo che ci venga richiesto di disegnare un solido a spigolo, per esempio una piramide a base quadrata, la cui base deve risultare inclinata di un certo angolo X rispetto al PO e di un certo angolo Y rispetto al PV. In queste circostanze, quando l'inclinazione riguarda solo la base del solido, procedere è tutto sommato semplice. Iniziamo disegnando la figura dritta rispetto ai piani di proiezione, in linea continua ma sottile, cioè con la base poggiante sul PO e con i suoi lati paralleli e perpendicolari alla linea di terra. L'asse della piramide appartiene ad una retta verticale, cioè una retta perpendicolare al PO e parallela al PV e al PL. La distanza della base dalla linea di terra in prima proiezione è la distanza della piramide dal piano verticale PV. Per far assumere alla base del solido un'inclinazione X, 30, 45, 60 gradi rispetto al PO, disegniamo a distanza a piacere una linea inclinata di questa quantità sopra la linea di terra. E sopra questa linea, anche qui a distanza a piacere, tracciamo l'esatta copia della seconda proiezione della piramide disegnata in precedenza, sempre in linea continua ma sottile, poiché si tratta di una costruzione preparatoria e non della proiezione ortogonale definitiva. Dicevamo che la possiamo disegnare dove vogliamo sopra la linea inclinata, però se un vertice o uno spigolo della piramide devono continuare a poggiare sul PO, avremo cura di utilizzare questo vertice o spigolo come perno della rotazione. La prima proiezione della figura si trova facilmente. I punti in prima proiezione sono infatti uniti ai punti in seconda tramite rette di richiamo perpendicolari alla linea di terra e sono collegati alle loro vecchie posizioni tramite rette di richiamo parallele alla linea di terra. Questo perché il solido ha ruotato solo rispetto al PO, mantenendosi però parallelo al PV. Laddove le rette di richiamo dei punti omonimi si intersecano, là si trovano i punti in prima proiezione. Li uniremo secondo logica, con linea continua ma sottile, cioè tutti i punti della base tra loro e ognuno di loro al vertice V. Non ci preoccupiamo per il momento degli spigoli in evidenza e degli spigoli nascosti, essendo questa solo una proiezione ortogonale preparatoria. Vediamo cosa è accaduto finora. La base del solido si trova adesso su un piano proiettante in PV, con due lati paralleli e due lati perpendicolari al PV. È invece inclinata di un certo angolo X rispetto al PO. Un suo spigolo appartiene al PO. L'asse della piramide è rimasto parallelo al PV, ma è adesso dotato di una certa inclinazione rispetto al PO, a causa della rotazione subita. Adesso appartiene ad una retta frontale, cioè una retta parallela al piano verticale PV, ma inclinata rispetto al PO. Tale inclinazione è facilmente determinabile dalla seconda proiezione della retta, oppure ricordando che asse del solido e base del solido hanno inclinazioni sfalsate, per così dire, di 90 gradi. Ruotiamo adesso la base anche di una certa quantità Y rispetto al PV. Basterà disegnare, a distanza a piacere, una linea inclinata di questa quantità sotto la linea di terra. E a destra o sinistra di questa linea, a distanza a piacere, tracciamo l'esatta copia della prima proiezione della piramide disegnata in precedenza, però inclinata. Se però un vertice o uno spigolo della piramide devono poggiare sul PV, avremo cura di disegnare questo vertice o spigolo sulla linea di terra. Abbiamo ottenuto la prima proiezione ortogonale definitiva del solido. Gli spigoli in evidenza e gli spigoli nascosti si trovano molto facilmente dalla seconda proiezione precedente. Esclusi tutti gli spigoli esterni della figura, si nota come lo spigolo di base AD sia il più basso di tutti e quindi non visibile in prima proiezione. Mentre gli spigoli laterali BV e CV sono i più alti e quindi sono certamente visibili. La seconda proiezione della figura si trova facilmente. I punti in seconda proiezione sono infatti uniti ai punti in prima tramite rette di richiamo perpendicolari alla linea di terra e conservano le medesime altezze della loro precedente posizione. Questo perché il solido ha ruotato solo rispetto al PV. Laddove le rette di richiamo dei punti omonimi si intersecano, là si trovano i punti in seconda proiezione. Li uniremo secondo logica, cioè tutti i punti della base tra loro e ognuno di loro al vertice V. Gli spigoli in evidenza e gli spigoli nascosti si trovano molto semplicemente dalla prima proiezione. Esclusi tutti gli spigoli esterni della figura, si nota come gli spigoli di base AB e BC siano i più indietro di tutti e quindi non visibili in seconda proiezione. Anche lo spigolo VB è indietro e quindi non visibile in seconda proiezione. Invece lo spigolo VD è il più avanti di tutti e quindi visibile. Abbiamo ottenuto la seconda proiezione ortogonale definitiva del solido. La terza proiezione, ammesso che venga richiesta, è velocemente determinabile dalla prima e dalla seconda. Della prima conserva infatti gli aggetti e della seconda le altezze. Gli spigoli in evidenza e gli spigoli nascosti si trovano sempre dalla prima proiezione. Esclusi tutti gli spigoli esterni della figura, si nota come gli spigoli di base BC e CD siano i più a sinistra di tutti e quindi visibili in terza proiezione. Anche lo spigolo VC è a sinistra e quindi visibile in terza proiezione. Invece lo spigolo VA è il più a destra di tutti e quindi non visibile. Abbiamo ottenuto la terza proiezione ortogonale definitiva del solido. Come si vede il metodo occupa molto spazio, ma le due fasi preparatorie possono, se volete, essere tranquillamente sovrapposte. Ma concentriamoci un attimo sul solido e vediamo che tipo di inclinazione esso ha assunto. Ci chiediamo infatti quale sia a questo punto l'inclinazione finale della base del solido e quale sia l'inclinazione finale dell'asse. Infine, a che piani appartengono, finito l'esercizio, la base e l'asse della piramide. Tutte queste domande troveranno risposta nel prossimo video, che caricherò quanto prima. Non perdetevelo, perché si rivelerà molto utile. Se questo video vi è piaciuto, potete trovare la trascrizione di questa lezione nel mio blog dedicato al disegno tecnico. Sempre nel blog sono presenti tantissime altre lezioni e tanto materiale didattico da scaricare. L'indirizzo è aliceappunti.altervista.org.blog. Il link è comunque presente nella descrizione del video. E non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sull'apposito pulsante. Questo permetterà al canale di crescere e mi darà l'entusiasmo necessario per caricare tanti altri nuovi video didattici.